Una donna che abbandona il proprio bambino è spesso una donna sola in difficoltà psicologica, sociale o economica. A volte straniera, a volte una ragazza italiana che nasconde la maternità per paura di uno scandalo. Il progetto di Nao compie 10 anni. Voluto dalla Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus e dal network KPMG in Italia, nasce per informare le donne sul loro diritto a partorire in anonimato e sicurezza in tutti gli ospedali pubblici italiani, a non riconoscere il proprio figlio, ad essere assistite, come stabilisce la normativa DPR 396-2000. Nao è il primo progetto nazionale a tutela dell'infanzia abbandonata, della salute della donna e del bambino, che ha ottenuto importanti patrocini. In questi 10 anni abbiamo portato avanti una campagna informativa e di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo inoltre donato una culla termica a 5 ospedali italiani. Due importanti strutture nazionali hanno aderito alla campagna di comunicazione con culle di altri donatori. Le donne che prendono la difficile decisione di non tenere il loro bambino dopo il parto, possono affidarlo alle culle Ninnao. Sei neonati che in questi 10 anni sono stati salvati e che oggi hanno una nuova famiglia. Aiutaci anche tu a diffondere il progetto Ninnao. Insieme aiuteremo sempre più donne, sempre più bambini.